Buongiorno a tutti, sono molto onorato di partecipare e di potervi raccontare la storia della nostra azienda, una storia che è di un'azienda dunque di numeri ma principalmente una storia di uomini. La nostra azienda è ormai la terza generazione di produttori di latte in una realtà molto particolare, quella sarda che come voi sapete non è una realtà fortemente evocata per il latte buvino, vaccino, ma è una realtà principalmente di latte ovino. Ma c'è un punto della Sardegna dove attraverso una storia lontana che inizia nel 1928 sono approdati di una serie di pionieri che sono riusciti a realizzare un sogno, un grande sogno, una realtà che oggi produce tanto e che riesce a confrontarsi nel mercato a testa alta. Qui vedete una foto di quello che era prima di questo sogno, una palude, dove con le carriole e con i badili sono riusciti a strappare circa 5.000 ettari di terra al mare. E dove nel 1950 il bovino era utilizzato per il lavoro e per feriterizzare il terreno. Da lì siamo arrivati a questo, a una cooperativa che vanta 255 soci, che sono molto piccoli ma per la nostra realtà è una cooperativa importante, 220 dipendenti, 181 milioni di litri lavorati e 135 milioni di euro di latte. È la cooperativa che controlla la quota di mercato più importante in Sardegna di raccolta latte e che a sua volta controlla anche delle quote di mercato molto importanti sui principali prodotti lattiero caseari. Tutto questo cercando di mantenere un obiettivo importante, quello di ridistribuire il valore creato da questa cooperativa sul territorio sardo. Sia perché si lavora solo latte sardo, sia perché i principali clienti sono sardi, ma anche chi ci lavora sono famiglie sarde. Dunque una cooperativa a favore del territorio. Questa è l'evoluzione negli anni, dal 1957 a oggi, attraverso una serie di piccole fusioni ma progressive, si è arrivati a controllare, come vi dicevo, la produzione di latte vaccino in Sardegna e di trasferire questo valore appunto ai propri soci. Questo è l'andamento del fatturato degli ultimi anni in continua crescita, negli ultimi anni in stabilizzazione. Questa è la nostra realtà dove operiamo, adesso entriamo nel dettaglio della nostra azienda, di quello che facciamo e soprattutto di cosa è successo negli ultimi anni. L'azienda è un'azienda non di grandi dimensioni, di dimensioni medie nel panorama internazionale, ma di grandi dimensioni nel contesto della Sardegna. Conferiamo circa 2300 tonnellate di latte all'anno e abbiamo circa 500 capi totali, per 85 ettari coltivati. La produzione media annua è di 9700 litri, con un tenore di grasso del 3,89, un 3,35 di proteina. E la razione alimentare, abbiamo il siro mais, che è un prodotto aziendale, che viene da quegli 85 ettari, il pastone, che è un prodotto aziendale, e il fieno, che è un prodotto aziendale. E qui emerge subito la prima caratteristica aziendale, la grande dipendenza del mercato dei cereali. Acquistiamo la farina di mais e acquistiamo la farina di soia e un nucleo proteico. Dunque, grandi dipendenze per quanto riguarda l'acquisto della proteina. Cosa è successo negli ultimi anni? Ecco, noi abbiamo definito il 2006 come l'anno dello spartiaco. Il 2006 avevamo una situazione stabile. Se guardiamo il grafico dei principali due alimenti acquistati, notiamo che la farina di mais aveva un prezzo stabile molto basso e la farina di soia altrettanto. Dal 2006 in poi, il cambiamento, iniziano a aumentare i prezzi, a volte anche a ridiminuire, ma tendenzialmente l'aumento è progressivo, dunque le cose cambiano e cambiano anche molto velocemente. E ci dobbiamo di fronte a un grande problema, quello della volatilità. Questo è l'andamento del prezzo del latte, che invece, attraverso un sistema organizzato, possiamo definire leggermente più stabile. Se lo confrontiamo con il latte crudo spot nazionale, questa riga blu è il prezzo del latte della nostra cooperativa, se lo confrontiamo con l'atte spot nazionale e col prezzo contratualizzato in Lombardia, vediamo come abbiamo una tendenza leggermente più stabile. Questo grazie appunto alle politiche della nostra cooperativa di raccolta di tutto l'attessato e di un controllo del territorio molto attento. In azienda cosa succede? Succede che i costi alimentari esplodono. Questa è la riga blu, è il 2006, avevamo un'incidenza dei costi alimentari che variava dal 40 al 50%. Nel 2012-2013 l'esplosione, i costi alimentari iniziano a toccare punte mai viste. Questo perché anche, perché con l'aumento della temperatura, dunque in condizioni in cui le perforze dei animali si riducono, i costi alimentari premono ancora di più sull'incidenza a litro latte. Abbiamo fatto un piccolo giochino per capire realmente e dare una dimensione a questo problema. Nel 2006 l'azienda produceva 1.600.000 litri, fatturava 689.000 euro e aveva un prezzo del latte di 0,41,9. I costi alimentari erano di 0,18 e dunque avevano un'incidenza sul prezzo del latte del 43%. Avevamo un IFC, un margine dopo i costi alimentari, di 0,236. Questo ci permetteva di ottenere un margine del 56% dopo i costi alimentari. Il 2013 si presentava, con ovviamente dei volumi di latte molto più alti, un fatturato in crescita, un prezzo del latte molto più alto, 0,45,9 e dei costi alimentari di 0,289. Un'incidenza dei costi alimentari che passa dal 43% al 62%, dunque una variazione del 44%. Un'incidenza dei margini creati per ogni litro di latte di 0,17. Ecco, qual è il giochino che abbiamo fatto? Se noi avessimo continuato a produrre gli stessi volumi di latte, ma nel contesto del 2013, l'azienda avrebbe perso margini per 108.000 euro, che se è considerato il fatturato 689.000 euro, incidono per il 15%. Cioè avevamo davanti un'altra azienda, un'altra situazione che se non presa in mano, attraverso l'aumento dei volumi, avrebbe generato la morte di un'azienda che ormai durava da tre giorni. Dunque, nel 2006, avevamo una sola variabile da monitorare, il prezzo del latte. Cambi al mercato, iniziano a crearsi complessità e oggi abbiamo più variabili da monitorare. Il prezzo del latte, il prezzo della razione e conseguentemente i nostri margini. Era necessario cambiare, era necessario cambiare con nuove idee, nuovi comportamenti, nuove tecniche produttive, nuove informazioni e un nuovo linguaggio. Era necessario mettere giù una strategia che noi abbiamo definito nell'incremento dei volumi e nel recupero dei margini. Nessuno dei due sovrasta all'altro, tutti e due sono importanti. Ma presidiando i quattro pilazzi della competitività di un'azienda da latte, che sono l'alimentazione, il benessere animale, la riproduzione e la finanza aziendale. Nel dettaglio, brevemente, l'alimentazione. Siamo in una realtà molto particolare con un grande vantaggio. Abbiamo una grande produzione per ettaro di sostanza secca, 80 quintali a ettaro nelle culture invernali e autunnali e 180 quintali a ettaro per quelle estive. Dunque abbiamo lavorato sulla pianificazione delle culture in maniera tale di fare il più magazzino possibile, sfruttarlo nei tempi maggiori e non lasciare nessun alimento stoccato. Il benessere animale. Abbiamo continuato a investire, nonostante nel momento di crisi, abbiamo detto che l'unico modo era continuare a rischiare sul nostro lavoro, a crederci, e dunque interventi strutturali, piccole ristrutturazioni ma continue e un monitoraggio a costanza dello stress da caldo. Il benessere animale è fondamentale per far sì che gli animali riescano a trasformare quei prodotti che erano diventati veramente costosi sul mercato, nel particolar modo la soia e il mais. Abbiamo investito sulla riproduzione è elemento fondamentale, tenere alte le curve di latazioni, tenere gli animali sempre efficienti è strategico e dunque la riproduzione è elemento fondamentale. Abbiamo investito in tecnologia, migliorando appunto la rilevazione dei calori e l'efficienza riva. Per fortuna non siamo stati soli, questo è un grande messaggio che do come produttore, tutto questo non si può fare da soli, bisogna essere aiutati dalle strutture che ci circondano e le strutture che ci circondano devono fare quadrato attorno al produttore. Siamo stati fortunati perché abbiamo trovato dei grandi partner che ci hanno sostenuto come la nostra cooperativa produttore che è una cooperativa di servizi, di approvvigionamento di materie prime e di servizi economico e finanziari, la 3H, la nostra latteria, l'Università di Sassi e l'associazione allevatori. Questi ci hanno permesso attraverso un sistema, un progetto integrato, la scostituzione di un conto economico stalla, un conto economico campagna e un presidio costante di quei parametri tecnico-riproduttivi che ci consentono di monitorare l'andamento della nostra azienda e in questo modo di portare alla luce quelli che sono gli elementi nascosti di inefficienza che si nascondono in tutte le aziende. Questo è l'esempio di un report che questo progetto mette a disposizione i propri allevatori e anche la nostra azienda. Non entro nel dettaglio dei numeri ma vedete come il costo litro latte della nostra azienda confrontato con le aziende del gruppo ci permette di verificare che siamo molto competitivi sul fronte dei costi, abbiamo circa un 8% di costi, questo dovuto principalmente al fatto che ci autoproduciamo e gestiamo il magazzino aziendale in maniera molto attenta, conseguentemente il costo totale per le vacche al giorno è leggermente inferiore ma frutto anche di ricavi più alti grazie a una produzione media leggermente più alta delle nostre bovine riusciamo ad avere un margine dopo i costi alimentari del 10% circa più alto rispetto alle nostre aziende. Abbiamo ancora tanto da migliorare ma questa è un'indicazione che le nostre politiche stanno dando i risultati in particolar modo se lo confrontiamo con aziende dello stesso territorio che acquistano le materie prime allo stesso prezzo e che hanno gli animali che vivono alle stesse condizioni ambientali. Ultimo progetto molto importante che le nostre strutture hanno messo in piedi è quello della costituzione di un conto economico dedicato e di un monitoraggio dell'area finanziaria delle aziende è importantissimo monitorare costantemente l'equilibrio economico delle nostre stalle e è importante anche monitorare l'equilibrio finanziario e qui abbiamo costruito un conto economico questi sono i primi dati del primo trimestre sono anche i primi dati del progetto e siamo riusciti nei primi tre mesi dell'anno ad avere un margine dopo l'alimentazione di circa 21 euro per 100 litri un margine che ci ha permesso di produrre un reddito operativo della stalla di 48 mila euro non mi soffermo sui dettagli però vi voglio ricordare voglio confrontare questi dati con quelli che vi ho fatto vedere prima del 2006-2013 ecco vedete come se nel 2016 avevamo un margine dopo i costi alimentari del 56% che si è ridotto del 37% nel 2013 oggi nei primi mesi del 2014 grazie a una condizione favorevole del prezzo del latte a delle buone performance aziendali ma anche a una situazione leggermente più contenuta del costo dei cereali riusciamo a performare attorno al 46% questo è un dato importante per ci fa capire come l'azienda si sta muovendo in questo contesto e l'equilibrio finanziario sta migliorando abbiamo generato cassa per 67 mila euro questo ci permette di capire se siamo in grado di servire il nostro debito adeguatamente ovviamente questa progettualità è importante è una progettualità che ci permette di crescere ma è una progettualità che non avremmo mai potuto fare da soli infatti lavora sulla base di un singolo azienda con un rilevamento dati per ogni azienda socia e poi tutto viene inviato a un dato centrale che restituisce al socio dei report che gli permettono di confrontare le proprie performance con gli altri ribadisco su questo concetto importante il confronto da soli difficilmente si riesce a capire tutti noi spesso pensiamo di fare il massimo di essere più bravi e spesso non lo siamo se non ci confrontiamo non riusciremo mai a capirlo conclusioni il cambiamento del mercato in particolar modo la volatilità è un sinonimo di incertezza di rischio ma è anche un'opportunità è un'opportunità di cambiare di migliorare la propria azienda di essere più efficienzi e più competitivi è un'occasione per creare valore economico ma anche umano e questo è l'altro aspetto fondamentale vi ho elencato quattro pilastri dal punto di vista tecnico ma c'è un grande pilastro che sorregge tutto che è il capitale umano se noi per primi non abbiamo la testa e la motivazione per cambiare quello che succede attorno a noi non riusciremo mai a dominarlo non riusciremo mai a creare innovazione e positività che spinge le aziende verso un futuro ecco noi vorremmo essere i piloti del cambiamento e non i passeggeri di questa situazione c'è già una quarta generazione pronta a continuare quello che gli altri erano fatto e questo come futures non è male grazie 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 a tutti